Allora, rispetto all'Italia non c'è paragone. Sebbene io non ami questo tipo di cultura, questa miscellanea di razze, di stili, di ristoranti, di cibi, è la perdita dell'identità di un popolo, di un paese. Io non amo questa completa integrazione sociale. La cosa più importante di un popolo è l'identità e non può essere dimenticata in nessun modo. Questo modo di vivere a Londra, a Edimburgo, qua, non mi piace. Questi non sanno mangiare, vivono di fish and chips e pizza hut. Cioè, è un tipo di società che a me non piace, internet non piace. Io sono tradizionalista. Di fatto, però, il rapporto Italia-Inghilterra, l'Italia, diciamo, che le prende 4 a 0, 4 a 1. Voi fate conto che io qua, semplicemente perché ho un libretto alto così, con sopra 4 commedie in inglese, io ne ho scritte 12, io chiunque incontro posso fermarlo, senza nessun problema, e dagli il libro e dirgli Sir. E questi sono felicissimi di ricevere il mio libro e di leggerlo. Ovviamente qua sono tutti di teatro, per cui lo vedi, no? Lo vedi l'attore, lo vedi il prodotto, insomma, vedi le persone, come guardano, le riconosci, per cui io ho potuto dare questi miei testi a tantissime persone e sono tutte felicissime che glielo regali. In Italia questo assolutamente non è possibile. Io ho scritto film, ho scritto tragedie, ho scritto commedie su commissione per attori importanti, impresari importanti, registi. Vi dico la verità, questi neanche le leggono. In Italia la cultura non è un valore. Gli editori sono quanto di più inadeguato, fazioso, incompetente, si possa immaginare. Tu ti trovi a parlare con questi editor, sono dei ragazzini, delle merite teste di cazzo, che non hanno la minima cultura, non sanno come si struttura un libro, non sanno come si fa a scrivere, cosa è meglio scrivere, cosa... Cioè non sanno niente e vanno avanti per sentito dire. Questo in Italia. Cioè, se sul titolo del testo ci fosse scritto il nome loro, il libro diventerebbe automaticamente vendibile, bellissimo. La verità è che loro sono, perché ignoranti, in competizione egocentrica, con l'autore, e ti dicono ma perché non cambia questo? E ovviamente è una stronzata. E tu gli dici, guardi, o lei mi dà ragioni ulteriormente sufficienti rispetto alle mie per cambiarlo, o se no io le spiego perché quello l'ho scritto così e questo è quanto. E questo in Italia succede con tutti gli editori, sono tutti di sinistra, sono tutti comunisti, e vogliono degli introiti, cioè di quanto vende il libro, non gliene frega assolutamente niente, niente, sto parlando della Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, Adelfi, Sellerio, a loro di quanto può piacere alla gente un libro non gli interessa nulla, nulla. Loro interessa o la loro vanità, il loro ego, la loro incompetenza, o la politica. c'è far fuori Berlusconi, la sinistra, apologia, tutto contro la Chiesa, Dio è innominabile, c'è il pensiero comunista, ok? Per cui c'è assolutamente, poi parlano di censura, sono stronzate, la censura è quella che impongono loro, gli editori. Io sono stato rifiutato dopo battaglie infinite, che non vi dico neanche, i Mondadori, perché piacevo a Berlusconi. Cioè, purtroppo io non ho tenuto quella lettera, perché ero ragazzo e mi ferì oltremodo. Io ricevete una lettera che scriveva noi siamo sicuri che lei piacerebbe, il suo libro piacerebbe moltissimo al nostro presidente Silvio Berlusconi, ragione per la quale non la editeremo mai. E allora Berlusconi era presidente media di Mondadori, anche oltre a media. e così, e non sto scherzando, io parlo di 25 anni, io il primo libro l'ho scritto a 22, ne ho 46. Andare in scena in Italia con una commedia, io non ho mai potuto farlo, non ho mai avuto la possibilità. non ho mai avuto la possibilità. Qua sono arrivato e sono andato in scena il giorno dopo. Cosa volete che vi dica? se io fermo qualcuno in Italia e gli dico ti regalo un mio libro o ti do una commedia, questo si mette a ridere e mi insulta. Questo è il livello del teatro in Italia. Loro vogliono semplicemente offenderti e ferirti e schiacciarti. Io mi ricordo con uno che aveva un teatro a Roma, gli diedi una commedia, lui non capì nulla della commedia, non capiva che c'era lo sponsor di lui, non ha capito niente. E mi ha offeso per 45 minuti dicendo che costava troppo. Io gli ho dato altre due di commedie, una con tre personaggi, l'altra con due o uno. Questo neanche l'ha preso in considerazione. Cioè il fatto che costasse produrla non era non era vero. Perché una commedia di un personaggio, di un attore o di due attori non costa. Cioè lui mi ha fatto una felippica e poi non ha neanche letto le altre. Questa è l'Italia. Cioè mandare una commedia con tutto il rispetto a una tragedia non so ma anche a Gigi Proietti che è un attore che è un attore che a me piace è impossibile. Cioè devi avere la... non so il politico l'agente la cosa... Cioè è tutto così in Italia. Io ho chiamato un agente di... come si chiama quell'attore? Argentero perché lo volevo in una parte pagato. l'agente mi ha risposto no a lei non glielo do Argentero. Perché? A priori. Cioè questa è l'Italia capito? A priori non me lo dava albergo pagato, produzione pagata, regista... no, non gliene frega un cazzo. Capito? Cioè la cosa è personale, mi stai simpatico, non mi stai simpatico e tu ti trovi davanti delle merite teste di cazzo. Cioè l'Italia fa immeritocrazia. Cioè questo è invidia, incompetenza. Cioè questo è l'altro lato della creatività italiana, della fantasia. Che qualsiasi coglione sale in cattedra e ti dice quello che devi fare. Ovviamente se tu facessi quello che lui dice falliresti. Quello che io spiegavo agli editori che volevano un libro comunista. Gli ho detto guardate che Solgenizzi è già morto. Se io scrivessi quello che voi mi chiedete di scrivere io non venderei una copia perché è un'idiozia. E loro dico no, allora non ti pubblichiamo. È tutto così, è una guerra al coltello. Loro, siccome gli editori vedono che io sono colto, che sono preparato, che sono forte, cioè che loro non mi vogliono. Perché? Perché non possono rubarmi il libro. Se io facessi non so, l'eunuco, il pederasta, gli leccassi i piedi e quant'altro, loro sarebbero felici di pubblicarmi perché potrebbero rubarmi i diritti del libro, quello che vogliono fare, e quindi diventare loro padrone del testo. Questa è l'Italia. E io sto parlando di 25 anni, 25 anni che faccio questo lavoro. Io il primo romanzo, grosso, alto così, io l'ho scritto che non ho finito di compiere i 23 anni, l'ho scritto a 22. Per tanti anni non ho neanche potuto scrivere per questa situazione. Del teatro, figuriamoci, il teatro non è neanche considerato, eppure è bellissimo. Ricordo a tutti che a Broadway, Daniel Craig, su un'opera di Harold Pintner, in tipo 13 settimane di programmazione ha incassato 17 milioni di dollari. Questo è teatro, teatro, teatro. 17 milioni di dollari una pièce. Quindi è ovvio che oggi io credo che sia lo strumento del futuro, perché con tutte queste Facebook macchinette, queste cagate, no? Internet, cose, ignoranza proprio dozzinale, è ovvio che se tu hai un uomo che ti rappresenta una scena davanti, è una botta di emozione pazzesca quello che è successo qua. Più del cinema anche. Poi io posso scrivere cinema, ho scritto cinema, ho scritto romanzi, cioè non è questione. Adesso gireremo la pilota di una sitcom. a venderla poi. Poi bisogna venderla, cioè c'è uno che ci mette giù dei soldi e poi dopo dobbiamo venderla se gli piace, se non piace, tutte ste cagate. Questa è la mia vita. Inghilterra e Italia 4 a 0 e a me non piace l'Inghilterra, non mi piace, il tempo fa schifo, mangiano di merda, cioè muoiono a 65 anni perché con la dieta che fanno, cioè col modo in cui mangiano, cioè mi stupisco che ci arrivino a 65 anni. Vabbè, niente, thank God it's Friday. Addio.